Oggi il mio canale YouTube festeggia i 6.000 iscritti, 1.200.000 visualizzazioni. Grazie, grazie a tutti voi. Se siete qui in questo canale significa che vi piace la semplicità. L'autonomia, l'autosufficienza, l'indipendenza dall'OPI e multinazionali. Ho un fiore per voi. Sotto gli alberi di oliva cresce il mio grano, riacquistando il tempo che avevo perduto. Da circa 50 anni in questa zona non si produce più grano. Io invece ho trovato dei vecchi semi in una ciotola a casa di mio nonno. Li ho presi, li ho seminati e adesso produco sempre, tutti gli anni, grano per me e la mia famiglia. Le vecchie conserve della nonna, semplici, fatte con materia prima facilmente trovabile un po' ovunque, senza doverli acquistare. Ho un fiore per voi. Ho un fiore per voi. L'Italia ha tutto ciò di cui gli altri possono invidiare. Mare, campagna, montagna. Le nostre baie. E' qui che dobbiamo trascorrere le nostre vacanze. I trabucchi ed i nostri paeselli, ricchi di storia e tradizioni. Ho un fiore per voi. Legumi, rigorosamente coltivati nell'orto o in aperta campagna, senza uso di pesticidi. E' questi fiori. Lino, per la cura del nostro corpo e bellezza della nostra pelle e capelli. I vecchi saponi della nonna, a base di olio di oliva e di vecchi profumi. Lavanda, per il profumo dell'igiene fatta in casa. Autoproduzione. In terreno incolto. Ed abbiamo tutto per fare la pasta fatta in casa colorata. Pane fatto in casa. Vi ringrazio amici. Condividete il video. Invitate i vostri amici stessi ad iscriversi al canale. Ciao, grazie, grazie ancora.